buongiorno ragazze e benvenute in un nuovo video questa mattina non avrei dovuto fare niente e invece ragazze mi sono ritrovata a pulire tutta casa sto lavorando da casa quindi c'è un pochettino di confusione in giro però sono contentissima perché appunto casa è bella pulita rinfrescata e adesso io mi stavo godendo il mio caffettino ragazze eccoci qui spero che la luce vada bene sto cercando di mettere in una posizione in cui vi possiate veramente apprezzare anche la brillantezza dei gioielli però insomma la luce naturale non è il massimo e va bene allora il primo braccialetto che vi faccio vedere è questo stile pandora guardate quanto è carino comodissimo perché ha diciamo questa questa chiusura che permette anche eventualmente di essere leggermente allargato e questo è diciamo che era uno dei miei preferiti perché ha la ballerina in rosa ma c'era anche in altri colori bellissimo questo insomma appunto una sorta di di pandora molto molto carino ho preso questo altro braccialetto praticamente mi piaceva moltissimo perché appunto c'è l'ape e tra l'altro quest'ape ha incastonate queste tre pietre gialle questo è un braccialetto che ha cinturino che quindi un po' diciamo un po' sportivo roccheggiante come stile eccolo qui un po' particolare un po' diverso dal solito comunque pure questo me l'ha piaciuto un sacco poi ragazze orecchini questi pure mi hanno colpito vedete sono pezzi veramente tanto particolari ovviamente una riproduzione del famoso dipinto la ragazza con l'orecchino di perla questi orecchini sono fatti benissimo e tra l'altro sugli orecchini vi devo anche dire che io li ho già indossati nonostante io abbia una fortissima sensibilità al nickel comunque le sostanze allergizzanti io questi l'ho ottenuti tutto il giorno e sono stata benissimo non ho avuto assolutamente nessun tipo di irritazione quindi mi sento di consigliarli anche a tutte quelle persone che hanno una forte sensibilità che hanno la pelle molto sensibile di poterli tranquillamente o regalare o comprarli per sé utilizzarli ma questi sono veramente ragazzi uno spettacolo poi ho preso questo tris guardate guardate quanta luce che fanno nonostante ci sia anche un po questa luce naturale molto forte guardate quante luce che fanno questo un tris di orecchini cerchi che me fanno impazzire tutti pieni di strass tra l'altro ecco appunto non ho avuto problemi di strass che sono caduti quindi sono tutti belli sani e ce l'abbiamo in dorato in argento e in nero poi siccome mi piace tanto il tema dell'ape anche perché sapete che insomma c'è un problema anche proprio a livello mondiale riguardante l'estinzione delle api e quindi sono in fissa col tema mi piacciono molto anche le borse dove c'è questo dove ci sono le apine comunque non mi ricordo qual è il brand perché anche qui è un brand famoso però non mi ricordo il nome comunque ho preso questa collanina così catenina con la possibilità di farla un pochettino più lungo un pochettino più corta con il ciondolino appunto ape smaltato e con degli strassettini sia agli occhietti che poi sulle ali e sulla testa poi ragazze guardate quanto è bello questo ovviamente è una diciamo ricorda una notissima marca di lusso brand di lusso mi era piaciuto moltissimo questo bracciale a fascia che credo ci fosse anche in altri colori sempre un po colori che ricordano il marchio questo mi è piaciuto tantissimo e questo è il risultato non tanto per l'inverno quanto questo lo vedo molto in estate perché appunto è una fascia al polso insomma bella grossa a due larghezze appunto si possono regolare sia così che così e ragazze pure questo è bellissimo poi ho preso due anellini guardate quanto sono carini c'erano anche altri colori credo ci fosse anche rosa ma era finito quando avevo fatto l'ordine io sono praticamente appunto questi anellini che sono comunque regolabili quindi vanno bene per tutte le taglie con i pompon ne ho preso uno bianco e uno nero carinissimo ragazzi vabbè io devo fare la manicure alle mani quindi non ho le mani ben ordinate e sistemate però guardate quanto sono carini io l'ho messo ieri in ufficio comunque con l'outfit giusto in inverno sono troppo troppo carini poi ho preso un altro braccialetto di queste ci sono ce ne sono tantissimi uno più carino dell'altro questa volta l'ho preso dorato sempre stile pandora e l'ho preso però a tema orsacchiotto perché non so se vi ricordate io avevo l'anello con l'orsacchiotto dorato con l'orsacchiotto e il cuoricino rosa quindi ho voluto prendere anche questo bracciale perché mi piace tantissimo e è questo il braccialetto indossato questi qua ragazze sono perline quindi non li vedete tanto luccicare perché sono perline poi quello che luccica infatti il cuoricino rosa proseguiamo con gli orsacchiotti avevamo tantissime cose tema orsacchiotto e ho preso questi orecchini molto semplici ma molto carini poi ho preso questo anellino carinissimo questo ragazze non è regolabile perché non si può allargare ok però diciamo io una mano piccola e questo qui mi viene diciamo decentemente forse un leggermente larghino comunque è molto bello perché c'è questa trama a catena tipo catena di collana e poi questo ciondolino a cuore dorato anche questo molto molto carino molto particolare come anellino orecchini ragazze ne ho presi tantissimi proprio perché sono uno più bello dell'altro è perché appunto scoperto che non mi danno fastidio e ho preso questi guardate quanto sono belli tutti pieni di stelline fanno guardate quanta luce che fanno e stanno veramente benissimo e poi ho preso questi che li desideravo credo che sempre pandora abbia fatto un modello simile orecchini a forma di cuoricino che chi mi conosce sa che il cuore è diciamo la mia forma preferita io ho tutto a forma di cuore e comprerei tutto a forma di cuore molto carini pure questi argento poi ragazze anellini ho preso questi sono bellissimi allora ne ho presi due perché ero indecisa sulla misura ma siccome ci tenevo tantissimo perché mi piace un sacco appunto ho preso due misure perché questo non è regolabile e ecco l'effetto è questo è bellissimo questo anello pure è molto molto bello e insomma questa è una misura un pochettino più grande però sapete che c'è che magari in estate che gonfia la mano potrei mettere questo e non questo perché in inverno ho le mani mi si restringono molto e tanto che spesso purtroppo mi scivola anche la fede e allora queste due misure tutto sommato me le posso giocare un pochettino di più anche in estate sono bellissimi altro paio di orecchini bellissimi grazie altro anello ma ho completamente sbagliato la misura perché questo è enorme e anche un po eccessivo come potete vedere questo di appunto penso che siamo zirconi non lo so tutto tempestato di zirconi tutto l'anello con questo patacone al centro forma di cuore che a me piaceva tantissimo mi dispiace per la misura perché mi viene grande però ragazze questo un po particolare mi rendo conto che io ho dei gusti un po particolari forse può non piacere perché stile patacone a me piace un sacco altro braccialetto tema orsacchiotto tema che a me piace tantissimo ed è questo questo è un braccialetto diciamo che si chiude ecco con il gancetto alla fine c'è un cuoricino e mi è piaciuto molto mi piacciono i colori il marrone il nero le perle molto molto carino pure questo poi ragazzi chi mi conosce sa che io amo adoro la fantasia piede pool e quindi non potevo comprendere questi orecchini bellissimi questa è stoffa ragazze appunto con la fantasia piede pool bellissimi bianco e nero poi ragazze anellino anellino regolabile perché questo anello si può allargare stringere molto particolare molto carino con due perle e nella sua semplicità ha un effetto bellissimo immaginate appunto con una manicure fatta io l'ho indossato per andare in ufficio e lo vedrete fra un pochettino ed è bellissimo pure questo ragazze veniamo agli ultimi tre pezzi forti sono i miei tre pezzi preferiti in assoluto e innamorata persa di questi e li vediamo subito allora i primi sono questi orecchini anche questi ricordano il logo di un noto brand famosissimo questo uno sfondo nero con tutti i dettagli in oro a forma di cuoricino ragazzi sono una meraviglia sono bellissimi e io li ho presi sia in nero poiché non potevo scegliere non sapevo scegliere ho preso la variante anche bianca che anche bianca è stupenda guardate magari più per l'estate sono bellissimi e anche questi li ho indossati li state vedendo in questo momento in una clip perché li ho indossati per andare in ufficio e poi l'ultimo pezzo è una pariur stupenda ragazze stupenda vi faccio vedere prima gli orecchini e nel frattempo vedrete anche le immagini gli orecchini che sono questi ed è inconfondibile il riferimento ma guardate quanto sono cioè sono fatti perfetti sono splendidi e addosso sono una meraviglia e ho voluto prendere abbinata anche la collana che anche questa è qualcosa di spettacolare ragazze e mi dispiace perché purtroppo le luci che ho non riescono a rendere bene amiche mie allora mi vedete con un look un pochettino diverso perché sono passati un pochettino di giorni dal dall'ultimo video e ho fatto appunto questo stravolgimento di look più che altro il colore di capelli perché mi sono fatta nera ragazze spero che vi piaccia io vi chiedo scusa per questi altri giorni di assenza ma sono stati dei giorni sempre un po impegnativi voi ormai sapete che quando ecco diciamo che possono succedere dei periodi in cui non si riesce a registrare anche perché i contenuti che cerco di portare io sono comunque dei contenuti che richiedono anche un pochettino più di tempo rispetto a una semplice registrazione di un qualcosa di parlato però magari ne parliamo prossimamente io vi ricordo di andare a visitare il sito di Navi Chic perché ha veramente le cose bellissime tra l'altro spesso riforniscono anche con elementi novità quindi soprattutto di gioielleria ma non soltanto e appunto vi consiglio di andare a vedere dare un'occhiata al sito perché avete visto i prezzi sono bassissimi i miei gioielli sono fatti veramente veramente bene e io non ho avuto assolutamente alcun problema sulla pelle cosa che per me è una cosa non da poco perché io trovo molta difficoltà sempre con la biciotteria invece questo non mi ha dato mai nessun problema e devo dire che tantissime persone mi fanno spesso i complimenti e tantissime altre persone hanno già fatto dei piccoli acquisti su questo sito approfittando del codice sconto vi lascio sempre tutto in infobox e anche qualcosina insomma impressione ma insomma andate sempre nell'infobox perché lì trovate tutte le informazioni magari su prodotti che mi piacciono con cui mi trovo bene che mi sento di consigliarvi o anche siti e quindi vi stavo dicendo tante persone mi hanno fatto complimenti per questi gioielli e hanno fatto i loro primi acquisti appunto approfittando del mio codice sconto vi consiglio di fare lo stesso perché sia che siamo acquisti per voi sia che siamo acquisti per fare dei regali trovate di tutto di più per qualsiasi fascia d'età per qualsiasi gusto e quindi è veramente un bellissimo sito sono stata molto molto contenta sono molto contenta di collaborare con loro io ringrazio anche tantissimo navi chic per questa seconda opportunità e spero ce ne possano essere tante altre e spero di farvi vedere presto qualche altra loro novità magari in vista dell'estate tra l'altro ragazzi hanno anche bigiotteria a tema tema mestieri ma anche tema festività e quindi possibile pure che troviate qualcosa adesso per l'imminente pasqua quindi andate a dare un'occhiata e sfruttate soprattutto il codice sconto che mi hanno dato per voi amiche io intanto finito di preparare il pranzo per domani che sono in ufficio ho fatto broccoletti così qua con un i piselli praticamente passati e il grano saraceno condisco adesso con un pochettino di aglio in polvere e curcuma e io vi mando un bacione grande grande mi dedico anche a pulire questo disastro mi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video amiche grazie grazie